E' febbre da Powerball negli Stati Uniti, il jackpot dei sogni nell'estrazione di questa sera è una cifra da record, 600 milioni di dollari. Inviate Tiziana Ferrelli. Il nostro viaggio tra i misteri che stanno sparendo, parliamo dei Lutai. Una notizia di calcio, per la prima volta il Sassuolo giocherà in Serie A. La squadra emiliana è stata promossa insieme al Verona per l'altro posto disponibile. Si affronteranno nei play-off Livorno, Empoli, Novara e Brescia. La squadra di Cannes, protagonista Bernardo Bertolucci con la versione in 3D del film L'Ultimo Imperatore che 25 anni fa vinse 9 Oscar. Le inviate Vincenzo Molina. E tutto ci fermiamo qui, ora c'è a fare i tuoi, poi il film La partita dell'amore. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.